Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi in primo piano l'ok dell'Aula di Palazzo del Pegaso al rendiconto finanziario per quanto riguarda l'anno 2023. Approvato in Aula, maggioranza e rediconto regionale per l'esercizio finanziario 2023 del Consiglio regionale, al fronte di previsioni iniziali di entrate e di uscite stimate in 31 milioni e 439 mila euro, si sono registrate variazioni in aumento di oltre 7 milioni e 846 mila euro, determinando conciò un ammontare delle previsioni definitive di oltre 39 milioni e 286 mila euro. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1 milione e 700 mila euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera, sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024, così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale di risorse economiche da questo punto di vista che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescono nemmeno a spendere le risorse abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. E dal Consiglio regionale arrivano anche nuove norme per quanto riguarda l'affidamento degli impianti sportivi e quelle che saranno riconosciute come palestre della salute. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il test unificato della legge che riformula il regolamento attuativo locale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi. L'atto presentato dalla Presidente della Commissione Sanità ha recepito e unificato due diverse proposte. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, un'animità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dall'autocità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi. Un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale, per cui nei comuni più piccoli, a due chilometri di distanza uno dall'altro, troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche, per poter far sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi tenuti male e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre è solito. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi delle grandi città, dei città-capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni due settimane. Noi pensiamo che si possono utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Quindi c'è un grande tema, su questo grande tema che è fondamentale per la salute, per i giovani, ci manca un assessore. In Toscana non c'è l'assessore allo sport. L'Assemblea Toscana ha anche approvato a maggioranza la nuova legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute, strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato per cittadini che presentano patologie o fattori di rischio sanitario sotto il controllo di figure professionali. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi, nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personali da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante, magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport. Direi che abbiamo ripetuto quanto avevamo detto in commissione, era stato un voto all'unanimità, c'è stato qualche battibecco perché la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che alla fine poi non hanno votato il provvedimento. Per quanto mi riguarda nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato, pur avendo delle problematiche fisiche e conseguentemente sentirsi tutelati. Parliamo anche di carceri perché in Consiglio regionale è stato presentato un libro che ha come tema centrale la musica nel mondo dei penitenziari italiani e toscani, il volume si intitola Metà Giardino, Metà Galera. Parlare di carcere attraverso le canzoni è questa la missione del libro Metà Giardino, Metà Galera che ripercorre la storia dell'istituzione penitenziaria dalla secondo dopoguerra d'oggi seguendo il filo dei brani di De Andrè, Vecchioni, Gaber, Silvestri, Dalla, De Gregori, Vanoni e tanti altri. Il volume è scritto da Alessia Lavilla e Leandro Vanni e presentato in Palazzo del Pegaso insieme alla garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Non è solo un resoconto di esperienze musicali ma un intreccio di immagini e racconti che esplorano il tema della detenzione e dipingono nelle loro canzoni quadri di attesa, tempo, innocenza e colpa. L'idea è nata sicuramente dal lavoro che svolgiamo, io appunto come funzionario giuridico pedagogico e l'altro autore come ispettore superiore di polizia penitenziaria. Il lavoro unito alla grandissima passione per la musica italiana e alla voglia di continuare appunto a parlare di carcere, a far conoscere il carcere e quella che è la sua realtà attraverso uno strumento universale e trasversale come quello della musica. Abbiamo le canzoni appunto dedicate al tema del purtroppo attualissimo dei suicidi in carcere ma anche al tema dell'affettività, della sessualità, dei minori, dell'uomo che esce dal carcere. Quindi veramente tocca a 360 gradi tutto quello che può essere considerato l'universo penitenziario. Il libro fotografa con tutte le sue contraddizioni la storia di questo paese dalla fine degli anni 50 arriva ad oggi perché se pensiamo che si chiude ma non si chiude perché è una storia che va avanti con tutte le sue sfaccettature positive e negative con Mare fuori, la sigla di quella fortunata serie tv, percorre appunto la storia di questo paese che è una storia per molti aspetti difficile sicuramente da indagare. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. Ci è sembrato lo simoro e la frase più giusta per una canzone importante, per un testo piccolo nel suo complesso ma significativo che ripercorre appunto la storia di questo paese attraverso le sue carceri. Sono canzoni che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sentito ma delle quali pochissimi abbiamo compreso fino in fondo la profondità se non la si analizza attraverso lo studio dei testi e il merito maggiore di questo libro è questo qui, di avere ripercorso la storia di anni terribili per l'Italia e anche di anni terribili per il carcere attraverso le musiche che al carcere fanno riferimento. La musica e nello mio specifico la musica corale rientrano appieno nell'area trattamentale dato che attraverso quello che è l'esperienza della musica corale si vanno a toccare quelli che sono i sentimenti magari non educati nell'arco della vita di una persona e che in questo caso attraverso l'armonia musicale che però si allarga a quello che può essere una armonia sociale si instaurano delle nuove relazioni, dei nuovi tipi di incontro con l'altro attraverso l'ascolto, attraverso l'attesa, attraverso quelle che sono sì pratiche musicali ma che possono essere anche delle pratiche sociali. Si approcciano sempre con magari un'iniziale titubanza però nel momento in cui comprendono quello che è il valore, quello che è anche la grande naturalezza che cerco di creare come ambiente di apprendimento si affidano con grande fiducia e veramente anche impegno perché in ogni caso nel momento in cui si deve fare popolazione il cantare in qualche modo è come mettersi a nudo, non è una cosa che può nascere spontanea soprattutto se si deve fare con e insieme alle altre persone e quindi questo è proprio aprire in qualche modo un varco nella parte emotiva della persona ed è qui che nasce proprio l'elemento prezioso che è anche unico dell'esperienza corale. Questi erano dunque gli argomenti principali trattati dall'Assemblea Toscana nel corso degli ultimi appuntamenti. L'appuntamento su RTV38 con la voce del Consiglio torna la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.